bentornati su cielo dove eravamo rimasti abbiamo festeggiato due anni e un autunno di grande successo con un prime time forte e continuo per tutta la settimana di tanti successi in tutte le fasce orarie ci siamo regalati un nuovo look e abbiamo coinvolto tanti nuovi amici e spettatori abbiamo dato all'intrattenimento un gusto unico con masterchef italia la prima grande produzione italiana del canale vince la prima edizione di masterchef italia il fenomeno di pubblico e critica della stagione televisiva 2011 che ha trasformato tre superchef in tre superstar con circa il 3 per cento di share in finale con l'operazione multipiattaforma x factor insieme a sky 1 abbiamo esaltato il successo e la passione dei talenti musicali italiani e di un'incredibile giuria la migliore mai vista in pochi mesi abbiamo lanciato nuovi volti del canale nuovi format con paola saluzzi buongiorno cielo e i suoi ospiti nello spazio del mattino di buongiorno cielo e la bellissima georgia wurt in voglio vivere così un viaggio in italia per scoprire le storie di chi in questi tempi ha cambiato casa per cambiare vita inoltre avete visto il grande cinema e le grandi serie di sky sul digitale terrestre e non ci fermiamo qui dove sei pecorello michele con l'arrivo di santoro abbiamo inaugurato il nuovo anno arricchendo il nostro sguardo sul mondo con una voce indipendente di altissimo impatto accanto al giornalismo a 360 gradi di sky tg 24 ripartiamo dai nostri titoli questo è cielo questi sono i nostri successi e non ci fermiamo qui ora siamo pronti ad incontrare il nostro principe anzi il nostro principiato ma il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu